La mia teoria. Odiare qualcuno è stranamente la cosa più vicina all'innamorarsene. Lo odio con tutto il cuore. Come altri pensano che tu flirti con me? Tartina, se stessi flirtando con te, lo sapresti. Tu mi odi davvero? Tutto è lecito in guerra e in amore. Mi piace il modo in cui mi guardi. Perché nessuno mi bacia come te. No, 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 no. Sarà un chiaro segnale che ti amo. Che tu sei quello carino. Ritira quello che hai detto. No. 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 No.